buongiorno signor presidente nel giorno in cui lei si appresta a scrivere il discorso che farà la nazione mi fa piacere raccontarvi io questa storia semplice da italiano a italiano quello che con freddo ci dice fratelli nel nostro libro sabato mentre lei veniva eletto signor presidente io ero neanche a farla apposta davanti le fosse a viadino è una strada che faccio spesso ed è una sofferenza anche per me o per come per ogni italiano passarci davanti però mi sono detto non sarà una coincidenza e allora ho detto sì andiamo a parlare al nuovo presidente della mia Italia signor presidente io non la conoscevo e tutt'oggi non ho mai avuto il piacere di parlarci però posso dire che come italiano sono molto contento che la Sicilia abbia dato un presidente al nostro paese così come ho avuto la conferma dicevo ho chiamato un mio fratello d'arme siciliano un ex ufficiale del nostro esercito e ho chiesto lui uomo molto affidabile e questo mio fratello mi ha detto è una persona per bene questa cosa a me mi basta e mi avanza avere la stima di persona è importante è importante per la sua Sicilia è importante per la sua persona per la sua famiglia ma è importante per l'Italia presidente e io voglio darle la mia opinione da italiano su quello che sono i temi credo che anche lei dovrà affrontare nei prossimi sette anni per far sì che quest'Italia abbia veramente il rispetto che merita parlando di unità nazionale caro presidente vorrei che lei sia l'artefice di un collante e il sistema che possa ancora da buon siciliano trasmettere quanto è importante stare vicino alle persone sentirsi a casa a Treviso come a Lampedusa questa è molto importante signor presidente e una cosa che vale la pena raccontare sono anche i cambiamenti signor presidente in un momento in cui l'Italia soffre ma soffre per davvero dare meno privilegi o rinunciare a qualcosa credo che sia il minimo che si possa fare non si può ricordare ai ragazzi per esempio la storia del centenario della grande guerra come lei si appresterà a dirigere in questi sette anni a le manifestazioni e poi farli sentire diversi l'uno dall'altro sono dei valori che vanno trasmessi e per trasmetterli bisogna crederci signor presidente e questo credo che sia importante importante come i ragazzi siciliani e sardi andati a morire sul caso per un'Italia dove lì e lei viviamo liberi e come dicevamo signore con meno privilegi meno privilegi meno privilegi come la parabola del del contadino padre di famiglia di sette figli che torna a casa con sette mele sette mele che mette sul tavolo una per uno per i propri figli dopodiché dice che ha mangiato pur di non toglierle e allora i figli chiedono ma come mai com'era e lui dice che era buona buonissima quella mela che aveva mangiato sull'albero pur non essendo vero e allora i figli ognuno gli diede un pezzo uno spicchio di mela perché tutti volevano sapere se quella che aveva mangiato lui era come quella che stavano mangiando loro e così anche lui ebbe da mangiare questo per me è un rispetto e essere uguali rinunciare a qualcosa in un momento così sarebbe veramente un bel segnale signor presidente il rispetto per le istituzioni un altro tema veramente importante che possa avvicinare i cittadini alla politica e non lasciarli lontani non si può dire siamo uguali e poi uno in cassa 4.000 5.000 euro mesi e l'altro 1.000 è come andare da Roma a Palermo uno in bicicletta e uno in moto e domandarsi come mai quello in bicicletta arriva sempre tardi non è possibile signor presidente non è una cosa che si può che possa esistere negli anni 3000 le forze armate signor presidente anche queste argomento caldo intanto la prima cosa da fare è riportare a casa i nostri marò ricordare poi che l'esercito è fatto dalla gente è fatto dal popolo e appastiene al popolo signor presidente questo è un paese che ha forti tradizioni signor presidente e queste sono le cose che devono essere sempre rispettate perché l'affetto delle persone verso le forze armate e le istituzioni deve essere sì richiesto ma loro prima di tutto devono dimostrarsi essere degni di servire quel tricolore su cui hanno giurato e sul quale giurerà anche lei signor presidente il lavoro signor presidente è ovvio che è un tema caldo oggi molto importante per il nostro paese certo bisogna dare a tutti un'opportunità sia chi è imprenditore che investe del suo e sia l'operaio o comunque il dipendente che si mette a disposizione dell'azienda per fare un buon lavoro signor presidente è ovvio che avere una opportunità non può essere che avere un socio al 50% non si può chiedere ad un imprenditore di investire e poi togliergli il 50% quasi dei suoi ricavi non è possibile invita ovviamente a prendere altre strade l'innovazione signor presidente l'innovazione di quell'Italia che è fantastica basta seguire diversi programmi radiofonici che parlano di una buona Italia che funziona e saremmo orgogliosi dei nostri ragazzi non dobbiamo più mandarli fuori signor presidente bisogna tenerli con noi sono i cervelli di questo paese sono il futuro di questo paese le dicevo signor presidente questa parità di dignità tra chi investe il proprio denaro il proprio impegno e coloro che con il loro lavoro invece permettono di di avere successo a quel famoso imprenditore bisogna metterli sullo stesso piano con i dovuti compensi e con i dovuti rispetti non si può pensare di essere al di fuori di questa partita perché l'azienda è il dipendente e il dipendente è l'azienda questo secondo me è il tema vincente immagine del paese signor presidente anche questo è un tema importante un tema che secondo me non è uguale non è uguale per quanto sia determinante guardarci dentro e rispecchiare fuori che cosa siamo capaci a fare siamo sicuramente tra i fondatori dell'unione europea e siamo sicuramente tra quelli che vogliono ancora portare in Europa la nostra italianità ma si deve veramente riconoscerci i nostri dati di eccellenza per l'impegno messo e soprattutto per crederci in questo futuro è molto importante è il nostro dovere secondo me signor presidente contribuire alla stabilità di questa Europa in tutte le maniere dando la mano come Italia a quelli che sono i conflitti e soprattutto le ragioni riconoscere le ragioni di ogni stato per la sovranità che l'aspetta come anche loro devono riconoscere questa Italia che si impegna tutti i giorni quella che la mattina comunque dà il suo contributo perché il paese e perché l'Europa sia migliore insomma un'Europa fatta per gli uomini degli uomini questo signore per me è importante significa solo così poi si può chiedere di avere quella identità europea al momento che l'Europa sia di uomini di persone questo signor presidente anche lei può fare veramente qualcosa il territorio signor presidente una politica che sia veramente senza uguali senza precedenti per far sì che il nostro bel paese non sia una specie di montagne russe che ogni tanto si scopre e va giù qualcosa e poi oltre alla vita umana che non ha prezzo si pagano delle cose incredibili signor presidente quando abbiamo fior di geoli che potrebbero veramente fare la differenza perché questa terra d'Italia signore non ci appartiene appartiene ai nostri figli appartiene ai nostri nipoti signor presidente questa è la missione che noi abbiamo di conservarla per passarla poi migliore di quella che l'abbiamo avuta signor presidente un tema molto importante è l'immigrazione e le nuove emergenze se è vero che andiamo in un'Italia diciamo mista tra nuove e vecchie generazioni italiane è importante è importante riconoscere la nostra umanità come italiani ma è importante anche riconoscere le nostre leggi e il nostro paese signore questo le lo chiedono gli italiani non può essere che ci siano due pesi e due misure è come un padre che toglie qualcosa ai suoi figli per poter da mangiare agli altri ma non toglie il superfluo toglie il necessario non si può signor presidente gli italiani hanno sempre fatto il proprio dovere se non altro italiani brava gente questo è sicuramente uno dei nostri pregi come nazione ma è giusto anche dare una mano a quegli italiani che soffrono per andare avanti signor presidente anche loro sono i fratelli che Mameri le ha messo a fianco sia a lei che a me signor presidente per far sì che queste emergenze non siano poi territorio per come persone indegne come quelle che è successo qui a Roma che sappiamo bene entrambi questo signor presidente sono dei piccoli temi che ho voluto parlare con lei ne ho voluto parlare perché come italiano credo che sia importante lasciarle quella voglia di fare qualcosa voglia di essere veramente il presidente che sia ricordato dagli italiani come in precedenza ce ne sono stati e lei sa bene a chi mi riferisco signor presidente credo che lei lo debba al momento che ha accettato l'incarico lo debba alla sua persona alla sua famiglia perché sia orgogliosa di aver dato un presidente buono e valido perché si ricordi nel tempo che cosa ha fatto lo debba la sua Sicilia ferra splendida e sempre bistrattata e invece piena di brava gente signor presidente e infine signore lo debba l'Italia a quel tricolore che lei si accinge a servire come molti italiani ogni mattina ora la lascio signor presidente la lascio al suo lavoro la lascio al suo discorso e torno anch'io al mio lavoro con cui ho veramente il piacere di servire il tricolore si signor presidente ogni mattina anch'io servo il tricolore nella mia nell'azienda dove lavoro perciò signor presidente le auguro veramente sette anni di grosso lavoro ma di grande soddisfazione per lei signor presidente per l'Italia per il nostro comune la patria quello che a volte si ha paura a dire ma è così signor presidente perché la patria nostra possa brillare sempre e perché i nostri concittadini siano orgogliosi di essere italiani signor presidente un augurio di cuore da Gianluigi Leoni italiano come lei signor presidente buon lavoro signore buon lavoro a lei al suo staff e tanta fortuna che ci assista a noi all'Italia a lei signor presidente auguri Gianluigi Leoni grazie a tutti